Bene ragazzi, siamo tornati in questo nuovo video Prima di mandare questo video devo dirvi che ho un video molto strano Sono a casa di Andrea perché io non ho ancora una videocamera Quindi vabbè E vi mando al video Oggi faremo un test di indovinare l'età di B Bambini o ragazzi che ci sono nel mondo Partiamo con Piotrek Kaminsko Madonna che nome, bellissimo Chiamerò mio figlio Piotrek Kaminsko Beh, allora, ha un cane, è un bambino e sappiamo solo questo È russo, ha la faccia un po' da scemo Secondo me ha dieci anni Non lo so, ha dieci anni Sembra dalla faccia Potrebbe averne anche dodici Perché, sì, potrebbe averne anche dodici Boh, io provo con dieci eh Provo con dieci, vediamo Vediamo se Che cacchio è successo Che cacchio è successo Allora, ho sbagliato L'età reale L'età reale era otto Come fa ad avere otto anni? Sembra uno di dieci cacchio Cioè, guardagli la faccia Madonna Vabbè Passiamo al prossimo Passiamo al prossimo No Quanti anni ha Rachel? Questa italiana So, dalla faccia mi sembra 20 Non lo so Questo presentimento Anche diciotto potrebbe averne Non lo so Secondo me Ha diciotto anni Non lo so Sembra di stare a West My Age Mi sento un po' Enrico Papi Allora, secondo me Ha diciotto anni Oh, rulo di tamburi Ah, Rachel ha Ventotto anni Hello Ventotto anni Ventotto anni Stati qua Cosa? Cioè, ma Questo video lo devono censurare Ma che fa ad avere ventotto anni? Vabbè Quanti anni ha Jennifer? Proprio di sferire le foto Ok Jennifer Devo azzeccarne una Almeno Sennò faccio una figura di schifo In questo video Che non vi potete immaginare Allora Secondo me Jennifer È francese Ha 15 anni Non lo so Ci provo È vero che ha 15 anni? Oh Quanti anni avrà Rachel? 13 Hello It's me C***o C***o Beh Farò una figuraccia In questo video Che non azzeccherò Neanche uno Quindi cerchiamo Il prossimo Di analizzarlo Meglio È già il terzo Che sbaglio Il quarto Danny Svizzero Va bene Danny Secondo me Ha 29 anni Sì Ha 29 anni Non può averne Sotto i 25 Non può averne Sotto i 25 È una barba Molto folta Poi anche Di baffi giganti Secondo me Ne ha 29 Si indovino questa Questa è difficile Perché Anche in bianco e nero So non c'è da niente Ma vabbè Attenzione Oh Me ne vado Come fa Ad avere 37 anni Non ci posso credere Non ci posso credere Siamo al prossimo So Questo film si chiamerà Pieno di fail Perché li sto sbagliando tutte Vai Cerchiamo di indovinare Almeno una Passiamo con Emma Anche lei francese Come Jennifer Jennifer Che era una cretina Ma che aveva 15 anni Ho sbagliato Due anni Ne aveva 13 Mannaggia Si vedrà che ne aveva 13 Ma che caglio Sai zitto tu Quanti anni ha Emma Vabbè dai Non può avere Più di 15 anni E questo Non ci piove Non può avere Meno di 10 anni Quindi O ne ha 12 O ne ha 13 Secondo me ne ha 13 Anche lei ne ha 13 Tutte le francesi Hanno 13 anni Vediamo O Questo sono proprio curioso Perché Anche perché Difficile Poi foto con retrica Ma che uso Dai muoviti O Quattro 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 prossimo anche questo sarà questo è un nome che non si può pronunciare questo è un nome che non si può pronunciare vediamo la valutazione dell'età allora sotto alla coperta bene si vede che sta male poverina non me ne frega niente e comunque si tocca la testa 17 anni ok 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 famiglia a una macellaia che vuole uccidere un porco anzi lei è una schifosa guarda qua che faccia ma che brutta madonna con sto cappellino che ti credi di essere con le tre emoji sopra ma va va secondo me ha 14 anni e basta cosa mi senti so che sono così scatti 14 quanti anni ha 18 18 18 anni 18 no no è taroccato sto gioco non può avere 18 anni ok facciamo facciamo credo l'ultima cora 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 bambina bambina quindi io ne viene do 13 dovrò fare il lato male ma vabbè anzi 15 dai 15 oh questo sono davvero più curioso di Emma che la che la ero curiosissimo avevo detto giusto prima perchè ho cambiato con 15 e 12 sono scarso 17 bene facciamo ancora una perchè sono arrabbiatissimo facciamo una bella adesso una bella la vado a cercare una bella non cercare su due giuseppe un tedesco mei marcus cor madonna giuseppe una femmina ma cosa tom ma che schifo va bene metto una casa dai scelgo questa qua impronunciabile che quel nome impronunciabile di prima avevo azzeccato quindi perfetto questo cerco di analizzarlo allora buca buca di un fosso sei proprio una buca di un fosso proprio allora andiamo giù giù valutazione dell'età 18 anni basta mi butto no no aspetta dobbiamo analizzare allora ha i capelli bianchi quello non c'è niente perchè si è fatta la nesh già lo so perchè ha tipo il rossetto nero gli do 18 anni se indovino questa faccio una scommessa vado a tirare un pugno ad andrea rullo di tamburi che questo potrebbe essere un cambio dell'umanità buca 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 di un fosso vado giù giù vabbè ho sbagliato proprio alla grande ma vabbè questo video può concludersi qua spero che vi sia piaciuto lasciate like condividete il video e spero che stia andando bene in questo canale e oggi è il 19 e il 25 uscirà la parodia di jingle bells giusto? dillo si parodia di jingle bells il 25 speciale natale mi sta buca non è male chi mi sa vabbè spero che il video vi sia piaciuto e già detto e ciao ciao buona ragazzi ho appena cominciato di fare questo video che avete appena visto è venuta una figata assurda le acting e vi ricordo che il 25 ci uscirà lo speciale di jingle bells la parodia tutti sul canale ciao Ciao!